Idratarsi e nutrirsi correttamente aiuta sia la sfera cognitiva che la sfera emozionale nella ricerca del benessere soggettivo, ricerca che deve essere tarata sull'individuo, deve essere personalizzata e in particolar modo deve essere fattibile e in più ci devono essere tutti dei parametri che essendo proprio tarati sull'individuo possano essere facilmente raggiungibili e non avere quell'aspetto sfidante come spesso capita che poi crea frustrazione e quindi invece di benessere soggettivo malessere.